Oh ragazzi miei, benvenuti con un'altra parte di Call of Duty, guardate qua ci capita, il D-Day, cazzo, finalmente Spaccate i like per questa parte perché sarà fenomenale, porca traia Comunque ragazzi stavo dando un'occhiata per quanto riguarda altri titoli di Call of Duty da portare che ho mancato, soprattutto quelli su console Allora, con Call of Duty 3 mi è impossibile portarlo perché l'Xbox 360 non funziona benissimo, quindi sono sicuro che non riuscirò a registrarlo Se qualcuno di voi ha un Xbox 360 da prestarmi mi cerchi da qualche parte Però stavo controllando anche i titoli tipo Playstation 2, cioè quelli usciti solo per console, sì, qualcosina c'è Quindi vedrò magari cosa riuscirò a portarvi dopo Call of Duty 2 Perché voglio finire tutte le campagne di Call of Duty, basta, cioè le voglio tirare giù Non me ne frega che sono per Playstation 2, riuscirò, troverò un modo per riuscire a portarli tutti, che cazzo Vabbè, chi se ne frega perché tanto non è neanche sottotitolato Domani mattina procederemo sulla costa della Normandia in un punto chiamato Point du Hoc La nostra missione è neutralizzare 6 canoni calibro 155, sono tratti francesi e dai tedeschi I canoni potrebbero colpire le spiagge Omaha e Uta Mettendo a repentaglio il D-Day, le scogliere sono a sé fortificate oppure come dice il sentente Randall Chi riuscirà solo ad avvicinarsi alle scogliere riceverà una medaglia Signori ci siamo 30 secondi allo sbarco, in bocca al lupo Rebor, stai per vomitare? Senti Donny, perché non vai a f***o? Compagnia Dodge, gli uomini sulle spiagge contano su di noi per distruggere cannoni costieri su quelle scogliere Piate rapidi, raggiungete la cima e sbrigate il lavoro E' stato contento anche solo per il Garand Ah no Giavo Dai Mi ricordavo che iniziamo così cacchio Come ci vudo Massacro totale Miracolo che avevamo beccato un proiettile vagante Visto tutti quelli che c'erano Sparati dalle mitralatrici nella costa Sopra il costone Dai Trascinami Mi sto a posto Piedendo Faccio io Giù Merda Giù Merda Cazzo mi ho eliminato almeno questi prima di arrampicarvi Vacca la merda Oh Gesù Ok vado io Fanculo Mi protageravo loro Cazzo che lo so dire Fanculo da questa Su io Hola Quanto quanto sei vivo C'è Giuda Dai 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 Ti sono un botto Ma un botto di tutto Ti sono Oddio Su qua si sta arrampicando lui Oddio è sparito Fanculo Harry Potter Nel suo Mantello dell'invisibilità No vabbè C'è No vabbè C'è Guarda il mitico cannone Che in un livello Mi diceva No no Quello non va bene Contro la fattoria Invece No vabbè C'è Ma Oh lord Passo 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 Come ditelo In trincea O è in trincea Si vabbè Si vabbè Piano Ho uscito Ma come fuocamico Ma no Ok 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 Siamo sulla stessa Bene Altri stronzi Morete No Stronzo Che andate Andate Cioè mi sembravano i cruchi qui usciuti da sto lato Ma se no erano loro Coracci Se vi levate magari Elimino Orco giuda Bellissimo lo spray Vacca la miseria Vabbè Bisogna avanzare Ma no C'è C'è un cazzo di cannone Che ha puntato a me Porca troia Va 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 No Dove non c'è il filmogeno Inutile Non riesco a passare Rompolo troppo i coglioni Aspetta Aspetta Mi viene da premere il maiuscolo per correre Ma non corre Sì 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 Ma via E vaffanculo Guarda Oh shit Va 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 Snito io Snito io Cazzo spari tu Oh signore No 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 Cazzavo Difendetta Oddio Dai 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 Ok morti tutti Morti tutti Vai vai Spingi 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 niente Spingi niente Struzzi lì Una Due Devo fare fuoco amico Sparare le cazzo di Non bello Ho smesso di sparare Finalmente Oh gesù Ma via Bene I cadaveri vengono inghiottiti dalla terra La terra si deve nutrire Oh bene Le ho fatto state l'elmette Faccio io Allora Continuate a muovermi Continuate a muovermi dice Sì signore Merdaccia Via 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 Aspetta bella Gentaglia che avete lì Oh Oh Quello è qua dentro Qua dentro To' ragazza Pezzo di merda Eh ti sposti? Un po' l'ultimo Un po' l'ultimo Un po' l'ultimo F*** Un po' l'ultimo No 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 Dai dai Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Mi dà dire che faccio io Sono super pratico Sono praticissimo come vedi Ok liberato Vamos Sto per finire i colpi Se trovo un bar lo prendo In realtà l'ho trovato Brutto merdoso Aspetta, forse il cadavere dei nostri amichetti c'è un bar con Garand Vabbè il Garand avrò molto tempo dopo per l'utilizzarlo. ULAA! E' bello questo cazzo Questo va bene 20 colpi, ma è giusto Ma l'ha 20 colpi il bar Il Thompson 30-50, ma l'avete scritto anche nei commenti? Caricato la stecca o va? 30 colpi, ma 30, sì, 30 giusto Ufff Ufff Grazie Puttana Bella Via, via, via No, no, no Vai, vai, vai Vai, vai, vai Grande Ora E' due Puttamerda Ah, schiacciapattate E vai E vai Ok Minchè mi ricordo la difesa che era una cosa di scivante Ehi, copritemi, devo ricaricare La difesa era uno spasso Restate qui a vedere se arrivano i rinforzi tedeschi Caponale Taylor, con me Caponale Taylor, con me Mi sa che la difesa è subito dopo questa Quindi Non credo ci fosse una missione Prima della difesa Ora Vediamo una scuola Eri Taylor, ecco i! Ecco il cannon! Ah, sistemarli con le granate incendiarie! Io vedo che non arrivino pattugliette tesche! Io penso a quelli da questa parte! Ah, ok! Faccio io, faccio io! Super pratico io! Sentite teschi! Sentite teschi! Beh, questo... Ok... Che magia! Ah! Che bello! Come non hai più granate! Oddio! Comunque stavo pensando di portarvi anche Medal of Honor, Halied Assault Medal of Honor, Halied Assault Molto, molto figo! Troppi ricordi con quelli qui! Il comando vuole che le compagnie D e F ripuliscano i bunker! Halor, Watercarter, diamo una ripulita! Gli altri tengano d'occhio la strada finchè non arriva il resto della compagnia! Restatemi incollati! Vi sono dietro! Merde! Ci siamo, ci siamo! Ma l'ho beccato in pieno! L'ho beccato in pieno e ha continuato tranquillamente a correre! Dovevo aver saltato il muretto! All'olio di cuore l'ha saltato quel cazzo di muretto! E' un po' che devo buttare questo eh! Non ha più proiettili! Signore! Ragazzi! Non neanche le stupi! Schiaccia patate corre! Passiamo i garanti! Quick! 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 No va bene, non scupe! non scupe sono morti? ok cambio prendo il Garand raga ma non ho più proietti ma con questo sto battendo la fianca caccia traga sono tornati non mettetevi in mezzo uno il Garand qua ma se l'ha mangiato la terra il Garand c'è lì troppi ricordi troppi ricordi il ding che fa storia vacca la merda che bello che bello il ding ah ho fatto illuso quasi come una sola su un mitra però vai 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 sponda sta cazzo di cancello ma adesso è serio? una carica di esplosivo beh è uno scambio di granate che è questo? via ok qua ah ah e vivo tu? molto bene qua sono una bella granatina uh possiamo passare da qui si avviciniamo ciao ok ok ripulizio quello riguarda impazzito ok tutto a posto easy cattivi cattivi ah va bene ti seguo ok invece che devo controllare forse anche all'interno vero e proprio di un bunker non lo so non so sicuro non vorrei che fare confusione con altri Call of Duty Badabode si la pratica tanto scazzo come ha fatto a prendermi alle spalle to stuglione eh non giuro ah che gusto ci provo fare wow ufficiali mannanna si è pulito direi ah da dove? c'è mica da dove? voglio quella calibro 30 qui cercate i feriti formate qui il dottore controllate che quei canali non sparino cercate informazioni sui cadaveri voglio una postazione sui cadaveri hacker 1-6 asciuga charlie 6 poi il duoc localizzato missione compiuta ci servono munizioni e rinforzi le vittime sono molte passo ci siamo ok i tedeschi ci hanno attaccato più volte nel corso della notte il sergente tra l'andara sostiene che si tratta dei tentativi per trovare dei punti deboli nelle nostre linee nelle nostre linee ora siamo qui sempre allerte in attesa di un attacco in massa l'attesa è il momento peggiore ancora non abbiamo idea di cosa di come stia procedendo il retto dell'invasione e di quando riceveremo dei rinforzi per i tedeschi non sarà difficile finire quel poco che è rimasto delle nostre forze stiamo avanzando in un'altra dimensione stiamo avanzando in un'altra dimensione bella questa amos amos faccio vedere sono praticissimo si fa così guarda spingolo da sud io spingo volo oh no ho preso di merda non so dove sto sparando ma spero di beccare qualcosa dove? orco il judo attenzione panteria in arrivo da ovest col bagna di cruchi in movimenta da vecchio dai me l'avevo beccata così in testa preso non è vero non l'ho preso sentimo e finalmente l'ho preso no non sono abito a quel fuoco di risposta nemico no quanto avevo la riserva di granate qua fai uno spazzettino qui la sensazione avete lasciato a marcire venite cazzo so oh ho 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 vai bene 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 guardate arrivano e hanno mandato contro l'infera di visione guardate che contorno li ho fatto dai bravo bravo questo è male questo è male mi vedo la testolina mi vedo male eh ficcata nell'incu merda si può finire i colpi basta c'è via vado a bordo aspetta aspetta un atto li prendo dal lato li prendo dal lato eh volevi vero taccia guarda mortai 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 purtroppo rinculo raggiungi la vitrognatrice alla finestra della fattoria e corri la nostra ritirata al villaggio sono io Taylor vado io vado io vado io no shit no ok così non c'è la sorpresa per dopo vado 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 ho trovato dei cruchi nel prato jesus 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 super pratico oh cristo che mira faccio io facendo io vado vado a fare meglio se mi devo del coglione non so se mi colpisco no mi colpisce anzi forse no forse no forse no 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 dovevo levarmi via 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 enjoy enjoy tanto tiro con la cannonata ma vaffanculo tu bello un tiger mi è sempre piaciuto il tiger via bello eh vaffanculo otto colpi otto colpi cagati io guarda 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 no vabbè su tutti i lati uno che colpi io non c'ho un proiettile per il Garand sono quelli che voglio ehi copritemi diamo ricaricare no no bombu e dai cazzo un criccato mico amico guga sta roberto da dietro non va bene non va bene non va bene Va bene Va bene Zero Qua zero E tua mamma Go 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 Ma por... Ma non avremmo un lanciarrazi? Cristo Un Panzerpost Hanno preso la fattoria Arrivano da lì Pingono da su Pingono da tutti i lati Sò per quello Ricaricando Volevano preso la fattoria Arrivano da là Oh Maria Minchia ma c'è quel cazzo di carro Oh becoglioni Con quello come facciamo? Giusto per sapere Oh giuda Oh se ti prendo sempre? Oh giuda Rompicoglio Oh anzi avessi avuto un Panzer qua Porta Taylor Ci serve tutta la potenza di fuoco possibile La squadra ha bisogno di te Taylor andiamo A fermarti Caporale Va bene Ma... I ragazzi di Obata Beach sono in marcia Anche alcuni aviatori arrivano dalle maniche Ma quando? Reborn Quanto ci metteranno? Circa 5 minuti signore Buono 5 minuti così cazzo Sono venuto a piaggere Vabbè 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 Dove vai tu bello Ma Marco giuda Questo dove è sbucato Questo ciccione Ma sto zitto tu Perché stanno inchiappettando la madre a casa E la moglie Ma la sono arrivati fino a qua Porca droia Noi vi lascio una linea di Che cazzo Aspetta Manco difendere Ma qui c'erano Guarda Guarda Che cazzo Di Tiger Porca boffana Guarda 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 Non abbiamo più un fianco Siamo completamente inculati Quanto dovevo rimanere qua Giusto per sapere Gli ho finito i colpi Di nuovo Non voglio farmi il pane Ragazzi No 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 Bravo Fisteggia Sì sì Soprimo tua zia Soprimo Andiamo Andiamo Tornate alla linea di fase successiva Presto Poi giudice Ma zia Soprimo Ma c'è un Garand qua No Un bar Signore Ok Questa è l'ultima Ultima difesa Ok Perché se no Poi ci buttiamo dal costone Tutto Oh Soprimo Fino Fino Arrivederci Fuzzi Che 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 Milla Mamma E' il Tiger Lo mi spada Cazzo Il carro armato Ficcato lì Che 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 siamo quasi un minuto e mezzo siamo tipo 4 controondate tu dici almeno i miei compagni mi coprono efficacemente le spalle questo mi ritrovo sempre indietro il colpo guarda o volete farmi uccidere super pratico posso rimanere anche tua madre il fumo guarda che ruolo 7 5 dai a far culo oh la ci sono cresso però è tipo io Randall Mantarro McLoad che basta sono morto più o meno sono arrivato i King Forza si a schiacciarmi portate quei carri sulla strada mettete delle guardie all'incrocio chi ha la lampada di segnalazione di riserva poteva andare meglio ma poteva venire peggio signori io spezzacolo let's play però vi sia piaciuto non ci vediamo con la prossima parte della campagna americana se vi è piaciuto spaccati di like e ci vedremo presto ciao a tutti grazie a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.